Grazie a tutti. Grazie a tutti. Classe 1953 e questo già gioca a suo favore. Grazie a tutti. Incredibile quello che ha fatto Buccairelli. Davvero incredibile. È davvero eccezionale. Non so se Sciamina o Giuseppe Buccairelli ma ha fatto una cosa incredibile. È davvero eccezionale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.